Burrani bentornati in questo nuovo video di Marci qui su Among Us Oggi video incredibile perché giocheremo come mini crewmate all'interno del gioco Ebbene sì, non useremo i panni dei nostri personaggi grandi e normali Ma utilizzeremo quelli piccolini e sarà veramente incredibile Io vi ricordo però una cosa, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti Perché guardate qua quanta gente guarda i miei video ma non è iscritta E soprattutto nei video di Among Us la gente guarda i video ma non è iscritta Quindi iscriviti al mio canale per non perderti nuovi video I video di Among Us escono lunedì, mercoledì e venerdì E sul secondo canale martedì e giovedì Quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi E se raggiungiamo i 10.000 mi piace entro questa notte a mezzanotte Questa sera a mezzanotte sorpresona speciale venerdì Uuuuh, Impostor con alberellito Ma che bellina questa cosa, ma che bellina questa cosa Aspetta, voglio dire se c'è qualcuno elettrico, io voglio fare subito la chilettina electrical Non c'è nessuno in electrical Dai che hanno fatto già tutte le tascoline, dai E allora Qualcuno che venga qui Ok, ehi ciao Event, vado giù E sono di qua Ok Mi metto qui a controllare io Mi metto qui a controllare se tutto funziona La la lero, la 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 Aia, doppia così? Aia Il chip ha snicciato Ho trovato De Maino in caffetteria Che sono state chiuse le porte Aia Uh, passava Baddino da lì Baddino? Baddino, ti ho visto, ero lì Ma se stavo facendo i fucili lì Ho una domanda Ho una domanda Tu, xiao, quando sei entrati in admin Eh C'erano ancora le porte chiuse? No, mi pare di no Ma lui arrivava dall'alto o arrivava dal basso? Io non l'ho visto, sinceramente Ma no, tu arrivavi dall'alto o dal basso, xiao? Io? Sì Eh, dall'alto se non sbaglio Eh, dall'alto vuol dire che eri in caffetteria, allora Non lo so, Baddino, l'ho visto Secondo te però, Marti L'ho cacciato lì a Weapon, se mi sembrava arrivassi da Navigation Secondo te, io mi metto a fare gli asteroidi Che è una task che è palesemente sgamabile come fake task Perché? In realtà no, perché con il basso di conti un 30 secondi, 20 secondi Ci stare Io già tanto che riesco a contare fino a 2 O fino a 8 come prima Boh, io nel dubbio Un votino a Baddino No, io a Baddino l'ho Non mi schiaceremo Io un votino a Baddino glielo do Che bello che appare Sus 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 Albe se la sta giocando mega bene, raga, eh Perché non si è fatto sgamare subito Bella, 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 bella Bella questa partita, uè Ma veramente? Ma che era vero? Ma io chiedo caffetteria intanto Ok Ok, vento, subito Ok, vado subito qui Ok, e mi metto qua Ciao Dai, adesso non ero io Allora Che stai facendo? Aspetta Stavo solo ballando Ok Volevo reportarlo ma con comodo Contestualizzato Eh Reportarlo ma con comodo Allora, io ero in elettrica e stavo ballando sopra il cadavere di Seba E poi è arrivato il chip Però io non l'ho ucciso ragazzi, eh Ma non puoi Stavo solo pregando per il suo corpo Boh, io mi fido di Xiao, voto Albe Ma cosa c'entro? Io ero dall'altra parte Albe io non so Tanto sono fuori Io ho già votato Xiao, raga Vabbè, Buddy e sei prossimo a morire Eh, vabbè Buddy, per forza l'altro, raga, dai Eh, per forza l'altro, quindi è Xiao, giusto? Ma zi, ma perché ti metti a ballare su un cadavere, porca miseria? Vai, giusto così, si onorano così i corpi Giusto, giusto Si onorano così i corpi Mannaggia, mannaggia, guarda, non ho parole, non ho Non ho parole Ma in elettrica non ci viene mai nessuno, non ho capito qua Cioè, fatemi capire come funziona questa cosa, eh Alberilito, facciamo una doppietta, vieni qua Albe, Mad Bay, Albe, Mad Bay Ok Raga Non lo so Rob, ma cosa combini? Non lo so, Rick Rob, cosa combini? Cosa combini, Marcello? Ragazzi, Rob entro in Mad Bay Stavano facendo finta di fare le tasche, penso, con Martina E poi ha ucciso Martina Ma sei morta, cosa fa finta? E l'hai uccisa, poi! Ma co, tu l'hai uccisa? No, non l'ho uccisa Io mi fido di Rob Tu l'hai uccisa No, Chip e Albe L'ha ucciso Alberito Chip e Albe, fate le persone serie Secondo me l'ha ucciso Alberito Raga, fidatevi di Rob, fidatevi No, ma che di Rob, ma zi, ma stai scherzando Quindi chi devo votare? Devi votare Rob Devi votare Marci Rob Albe Albe, ti giuro Vota l'albero Vota l'albero Rob, scusate che mi deve votarti No, no È stato bellissimo No, raga, è chip Ma basta, raga, è finita Così È già finita Ma tra l'altro Raga, io non ho fatto niente Ma è alberto Non ho fatto niente Nessuno mi ascolta Raga, è stato bellissimo che Martina si mette sulla botola Per tipo trollarmi Vado sulla botola Prendo la botola Esco la riuscita Niente, raga Sono sempre l'impostore qua Non so che cosa devo fare Eh boh Aspetta, qua c'è del maichino Cosa possiamo fare qua? Cosa possiamo fare? Ok Buono, buono Buonissima questa cosa Perfetto Non c'era nessuno che poteva uccidere Vediamo se uscrisce qualcuno Ok Electrical Ok Raga Cosa è successo? Dimmi Sono entrati in elettrica E c'era Eh sì C'era la maxia morto Sei stato tu No raga, sono arrivato a commarci Io Quindi è stato Rob Io ero il reattore Dove ero il reattore? Il reattore Io ero in navigation Io ero mutata Raga, ho visto che siamo a ammazzarsi Ma come? Ho cominciato Ho cominciato Anch'io ho votato mortino No, no Scherzo 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 Che si esce alberello Sì Ok 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 Andiamo a fare delle luci Qua chiudiamo Caffetteria e storage Appena si può Caffetteria e storage Caffetteria e storage Si deve chiudere Ok Ok No, 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 no Cheap, 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 cheap No, ok Vabbè Havana, unana No raga Devo fare tutto il memory adesso di nuovo No, ed è mai che è morto in admin Stavo guardando il tablet A quanto pare è morto No Cheap, eri te in elettrica? Sì, ero io Ok Sì, sì Va bene, dai Ok, grazie Ti serve il progresso, mi sa Sì, te lo salvo il progresso, effettivamente Schippate tutti, schippate, sebasci, però No Esatto No, raga, ma volevo morire Ti serve il progresso, Marti Dai, uffa Meglio essere vivi Andiamo tutti da Martina, raga Grazie Ma seguiamole, facciamo il supporto Vediamo chi l'ammazza Perché chi l'ammazza Ti stai andando incontro alla morte Eh, sto andando al memory, raga Andiamo tutti assieme qua, aspettare Ok, ti aspettiamo in lontananza No, avete tolto le luci Eh, raga, non vedo niente Come faccio a fare il memory senza le luci? No, raga Ho capito Io non ti vedo Qualcuno ha dato a riattivarla Io No, comunque lo sto rifacendo tutto da capo, eh Davvero? Eh, sì Cioè, te lo fa rifare da capo Te lo fa rifare da capo però velocemente No, raga, ancora Dai, raga, dove devo fare sto memory, eh Marci Ma che Marci? No, raga, io l'ho visto E sicuramente non è stato Marci Eh, Martina no Ma, Baddy, non puoi dirlo Anche se non sono io Martina non è Io non sono quindi Orobo, Chip o Marci Marci L'ha ucciso davanti a me Ma stai scherzando, Chip? Adesso È un delirio di una persona sana Ma io devo fare il memory Perché? Non ho fatto niente Ma, allora, Chip, io ti giuro Non ti volevo, volevo coprirti Ma io tipo Ma non mi interessa Ti butto fuori, guarda Che ammazza e riporta Mentre io sto facendo il memory Vabbè, io voto Marci lo stesso Io voto Chip No, Chip, Chip Rob votar Chip Non è palesemente Rob, secondo me Dai, fateci vincer sta partita con calma Per favore Eh, non lo so io Raga, erano Marci e Rob Ma è ovvio che era Visto era Chip E abbiamo perso Raga, io non so Non so più cosa devo fare Sono ancora impostore Sono ancora impostore Eh, vabbè, raga Che si deve fare? Ok, vabbè Scendiamo Non uccidiamo nessuno Alberilito? Dobbiamo farla La doppia Sì, 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 Albe Sì, Albe Dimmi che c'è qualcuno qua dentro Vai, Albe Vai, Albe Albe Eh, che cavolo Ragazzo? Vorrei fare una domanda a Martino Prima che dite tutto Ok Eh, Martino La tasca che hai fatto, no? Guarda mai la barra sopra Quando l'ho aumentata Quando l'hai fatta? Sono io, uccidimi Ok Sono già autonotente No, no, zio Aspetta un attimo Ci appartiamo un attimo No, stai scherzando Allora Io stavo guardando in caffettina Quando hanno chiuso le porte Se Nicolino uccidesse Chip Però boh, non è successo Sì, no, in realtà qua sei tu che mi puzzavi Eh Aia Aia Che hai guardato Chip Poi sei andato in admin Sei uscito subito senza far questo No, va bene, mi voto Cosa devo fare? Non posso Questa è la tattica vitale Non vi dico neanche chi Dove l'ho trovato E dove Mi ho votato me stessa Anche io Dai, schippate No, perché ho votato Marce allora? Perché prima mi ha buttato fuori Perché scusate C'ho due persone Io Oh Sì, mi ha votato Xiao e Io È Nisto È tu, basta È tu Benissimo raga qua, benissimo Chiudiamo caffetteria Ok Metterei qua dentro E fare una bellissima Kill qua dentro I VAMOS Ok C'è Xiao Rob Va bene Dai venite tutti qua nel centro Sì, si venite tutti qua Ragazzi Raga, ho ucciso Buddy Raga, ho ucciso Buddy Ah Raga, mi sono spaventato un po' Adesso muoio, adesso muoio, adesso muoio Non ho parole Non ho parole Non ho fida Marci, ma come fai ad essere sempre impostore? Io? Raga, ho ucciso Buddy È una missione di colpa questa, raga Questa è la mia Ma io sono morta in tutto ciò Perché sto parlando? Non sono io! Da me è Marci Ma come? Come no? L'ha fatto per amore, voleva stare con me Stammi lontano Cambiate il seno Dai